Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. 1.800.000 euro, un risarcimento monstre che l'ASL di Rieti deve ai familiari della donna morta a seguito di un parto cesareo e delle complicanze sopraggiunte per un'emorragia. È successo nel 2008, la donna dopo il cesareo e l'emorragia passò un mese in rianimazione per poi morire a seguito dell'ipossia cerebrale. Salva la bimba che portava in grembo e venuta normalmente alla luce. Si tratta di una delle cifre più alte mai pagate dall'ASL di Rieti per casi di responsabilità medica e a riportare in auge la vicenda è la Corte dei Conti che ha tirato una linea sotto ai danni erariali dovute alle cause mediche. La vicenda giudiziaria ancora non è terminata tra ricorsi e contro ricorsi e pronunciamenti che ancora devono avere esito con il coinvolgimento di medici che aspettano di avere sentenza sul loro comportamento. Paura questa mattina in zona piscina comunale, Campi da Tennis, in via Teseider, intorno alle 10, scontro tra due auto per motivi in via di accertamento da parte della polizia locale. Nell'incidente il vetro di una delle auto è letteralmente esploso e le schegge hanno colpito il bambino che viaggiava con la mamma. Il piccolo è stato portato al Delellis per gli accertamenti e le cure del caso, spavento e qualche ferita ma nessuna grave lesione per lui, preoccupazione per la madre mentre le forze dell'ordine puntano a ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente. È partito male ed è proseguito peggio, tanto da essere sventato il tentativo di truffa ai danni di una signora di 82 anni questa mattina in zona Viale Maraini. Rieti Life, peraltro, poco prima aveva avvisato i cittadini, visto l'aumento delle segnalazioni a forze dell'ordine e associazioni. Stavolta però la donna reatina, preoccupata ma non ingenua, ha riagganciato e avvisato i familiari che ora faranno denuncia ai carabinieri. Solito il modus operandi tra quelli scelti appunto dai malviventi per cercare di raggirare gli anziani. Vogliamo mettere in guardia chiunque, diffidate da dare dettagli e soprattutto dal far entrare sconosciuti in casa, è l'appello dei familiari della signora che hanno contattato Rieti Life. Lo sport e l'atletica gareggiano sabato i reatini impegnati nei mondiali indoor di atletica a Glasgow in Scozia. Mattia Furlani nel lungo salta la mattina di sabato, mentre Roberta Bruni nell'asta gareggia di sera. Entrambi ovviamente hanno grandi speranze e sono arrivati giovedì con la nazionale in Scozia. Oggi l'allenamento di cui vedete le immagini tratte dal sito della Federazione Italiana dell'Atletica Leggera e domani il tifo per i primi compagni di squadra in gara come i velocisti Ali e Ceccarelli, l'ottescentista Coiro, la multiplista Sveva Gerevini, la quattrocentista Folorunzo, nonché i mezzofondisti Tecuciano e Aprile ma soprattutto i pesisti Veir e Fabri impegnati nel finale per i titoli mondiali su Rai Sport e Rai 2, dirette testuali su Fidal.it, ovviamente Rieti Life darà notizia dei risultati di Roberta Bruni e Mattia Furlani. Nuovo appuntamento con la rana nel pozzo, il talk politico condotto dal direttore di Rieti Life Emiliano Grillotti. In questa puntata ospite il sindaco di Borgorose e il responsabile dell'ufficio Piccoli Comuni della Regione Lazio, Mariano Calisse. Un punto sulla situazione politica locale e nazionale e uno sguardo al lavoro da fare in questa importante carica, da poco assunta dall'amministratore Reatino che è appunto anche sindaco di Borgorose. Borgorose. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani alle 20.45. Rimanete informati sui siti del nostro network con ovviamente le nostre trasmissioni e con il nostro free press. Grazie alla regia di Luciano Mancini, grazie a voi per averci seguito. Buona serata.